La stampa al carbone, per quanto mi riguarda la stampa al carbone, il mio incontro con questa tecnica avviene nel novembre del 1978 con questa storica rivista, la più antica rivista di fotografia in Italia, Progresso Fotografico, che in quel mese, poi nel mese successivo di dicembre del 1978, usciva con due numeri sostanzialmente monografici dedicati alle antiche tecniche di stampa, riproponendo delle vecchie tecniche di stampa risalenti al bori, alle origini della fotografia. Tecniche come la bromogliotipia, le carte d'annerimento diretto, i processi calitipici, i sali di ferro e argento, una miriade di invenzioni fatte da questi pionieri della fotografia che a me parvero immediatamente, non li conoscevo, frequentavo un circolo fotografico, ci divertivamo con le carte della Kodak, dell'ACFA, della Ilford a stampare il nostro bianco e nero, ma fu una rivelazione leggendo questi due numeri scoprire un arcipelago sconfinato di vecchie tecniche che l'industria fotografica aveva sostanzialmente cancellato. In definitiva, cos'è la stampa al carbone? La stampa al carbone è una tecnica di stampa che non utilizza i sali d'argento, ma un solo chimico, un sale di cromo e viene chiamata stampa, in origine veniva chiamata stampa al carbone perché in epoca ovviamente di bianco e nero il pigmento che dava il colore a queste stampe era la polvere di carbone, la fuligine, il nero fumo. L'immagine che qui ho in mano è appunto una vecchia immagine di una lastra in vetro trovata in una soffitta e mi è sembrato logico quindi applicare la tecnica di stampa al carbone nella sua versione originale stampandola proprio con fuligine, con quel deposito dei fumi lungo le canne fumarie. In questo caso appunto è una serie di fotografie che ho fatto con fuligine, ma la particolarità della stampa al carbone ed è quello che poi mi ha affascinato proprio come tecnica, a cui ho dedicato diversi anni di ricerche e di studi, è la possibilità di stampare in modo policromo, cioè con diversi pigmenti, diversi colori. L'immagine che ho in mano del buon Vandré è una prova, questa è una tricromia, la classica sintesi dei tre colori base che compongono tutti i colori che noi vediamo, cioè giallo, magenta, ciano. Direi che forse vale la pena di vedere anche quelle che sono le materie prime con le quali viene prodotta questa stampa e credo sia necessario a questo punto recarci in laboratorio. Allora, qui ho tutti i materiali necessari per la realizzazione di questa antica tecnica, le materie prime, la materia prima per eccellenza è la gelatina, in sostanza sono proteine pure ricavate dalla lavorazione di scarti della macellazione, ossa, cartilagini, pelli, eccetera, in una forma estremamente pura, sono sostanzialmente lunghe catene di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, proteine, proteine pure. La particolarità di questo materiale è quello di poter inglobare tantissima acqua fino a dieci volte il suo volume, mantenendo comunque una solidità. Questa soluzione di gelatina a temperatura ambiente è, come vedete, solida, ma è sufficiente scaldarla leggermente, portarla a una temperatura prossima ai 40-45 gradi, qui vi mostrerò uno dei colori, il primo colore che viene utilizzato, che è il giallo, è tiepida, è intorno ai 40 gradi, 45, ed eccola, è liquida. Tutto il procedimento ruota intorno a questa particolare caratteristica della gelatina, quella di passare dallo stato gel, solido, allo stato di soluzione, liquido, fluido. La concentrazione di gelatina è grossomodo 1,10, con 100 grammi di gelatina si prepara orientativamente un litro di gelatina pronta a essere pigmentata, colorata. Sembra una ricetta un po' da cucina in realtà, oltre alla gelatina e l'acqua, io uso mettere, come insegnavano alcuni vecchi maestri, come sostanza plastificante, ad esempio il miele, oppure lo zucchero, i pigmenti, i pigmenti che utilizzo sono dei pigmenti puri in polvere, come ho già detto sono pigmenti di natura minerale, metallica, quindi assolutamente stabili alla luce, che una volta sciolti questi pigmenti in polvere in una miscela di acqua e glicerolo, so già che per dire 3-4 millilitri di questo giallo mi danno una matrice dalle già buone tonalità, ad esempio per il giallo, così come per gli altri colori. La prima cosa da fare è ovviamente la stesa di queste gelatine su il cosiddetto foglio matrice, il primo foglio che accoglie queste gelatine pigmentate, se si vuole fare una foto a colori ovviamente nei colori primari, questo è un magenta. La tecnica che io adotto è relativamente semplice, perdonatemi devo asciugare perché non sgoccioli, acqua, e uso una barra filettata, semplicemente, è questa. La gelatina calda è fluida ed è quindi lavorabile per ottenere uno strato il più uniforme possibile. Questa è la tecnica per preparare una matrice. Questa è la tecnica che adotto io, poi esistono altre metodologie. C'è chi usa dei piani, ad esempio, girevoli e sfrutta la forza centrifuga per ottenere uno strato uniforme. Questa è la matrice del magenta. Diminuendo la sua temperatura, la gelatina si rapprende, posso togliere il rivestimento che ne ha limitato ovviamente il versamento del fluido e ho una matrice che adesso dovrà essere asciugata, perderà praticamente tutta la sua acqua, restando gelatina pura con il suo pigmento inglobato. Questa è la matrice del magenta. Il secondo colore che in genere io, voilà, eccola qui. A questo punto va in essiccatoio per l'asciugamento. Questa è la matrice asciugata che prima avete visto nella sua stesa, nella sua preparazione. Per le immagini a colori, i colori sono i tre colori base, quindi la matrice del giallo, il magenta che abbiamo appena visto, e il blu verde o ciano. Con questi tre colori sostanzialmente si fanno tutti gli altri colori. Il blu, il rosso, il verde. La sovrapposizione di questi tre matrici da tutti i colori che noi riusciamo a vedere. Ovviamente attraverso le sfumature, gli spessori di gelatina che seguiranno le tonalità dei tre negativi di selezione. Essendo una stampa, non ai sali di argento, ma ai sali di cromo, notoriamente molto meno sensibili alla luce, la stampa è possibile solo per contatto. Quindi si tratta, per stampare, di usare una sorta di bromografo con una stampa a contatto. Quindi si tratta di realizzare dei negativi delle stesse dimensioni della stampa finale. Non si può procedere con il classico ingranditore su foglio di carta, partendo da un piccolo negativo per ottenere un ingrandimento. Qui si tratta di produrre un ingrandimento negativo e l'esposizione, la reazione che produce le sfumature di colore non è dovuta che da luce ultravioletta attraverso il negativo la matrice riceverà proporzionalmente con il chiaroscuro una certa quantità di ultravioletto le zone che non hanno ricevuto luce attraverso il negativo cioè nelle zone più scure dei neri resteranno relativamente più solubili di quelle attraverso le zone più trasparenti del negativo che arrivano a dare il nero. Qui l'acqua non riuscirà a sciogliere completamente la gelatina di conseguenza resterà un'immagine scolpita nella materia della matrice. La matrice, resa sensibile per immersione nel sale di cromo portata di nuovo in essiccatoio perché sia completamente asciutta la sua sensibilità alla luce si manifesta solo nello stato di secchezza da umida non è assolutamente utilizzabile non è neanche sensibile alla luce, neanche quella ultravioletta viene posta in questo espositore, questo illuminatore a luce ultravioletta con la gelatina ovviamente rivolta verso il negativo di selezione qui abbiamo la matrice del giallo e quindi io utilizzerò la matrice, il negativo del giallo il rosso verde viene fatta la sovrapposizione viene alla fine in realtà applicato anche un vetro in alcuni casi io in genere uso una pellicola trasparente con un sistema a vuoto viene fatta aderire perfettamente a questo punto accese le luci ultraviolette si procede all'esposizione attraverso il negativo del colore corrispondente per un tempo che può variare mediamente intorno ai 7, 8, 10 minuti è una fase questa dove uno determina anche la saturazione del colore la tonalità del colore, la luminosità del colore le variabili in gioco in questa tecnica sono talmente tante per cui la scelta dei pigmenti, che tipo di sensibilizzazione che spessore di gelatina, quanta esposizione la temperatura dell'acqua incidono sulla qualità dell'immagine che si otterrà e quindi una volta padroneggiata questa tecnica si ha davvero la libertà di creare come si vuole ecco la matrice già esposta nel bromografo sotto la luce ultravioletta a questo punto ha subito l'impressione della luce e quindi quella variazione del sale di cromo che induce una differenziazione nel grado di solubilità della matrice la fase successiva è l'immersione in acqua dove la matrice si rigonfierà di nuovo di acqua ma in modo differenziato mostrando fra l'altro con un gioco di luci lo si potrà vedere già l'immagine incisa la lasciamo per un minuto in acqua questa è la seconda fase è il colore magenta il giallo io l'ho già preparato in anticipo ed è la prima fase immergo anche questa in acqua devono assorbire acqua la gelatina deve rigonfiarsi diventare di nuovo come dire lavorabile malleabile la fase di laminazione e di cosiddetto trasporto è la fase forse più complicata e più critica di questo procedimento di stampa la laminazione viene fatta sott'acqua evitando accuratamente qualsiasi bolla d'aria che pregiudicherebbe l'adesivizzazione della matrice tenendo immerso sia la matrice che il foglio ricevente vado a toglierla dall'acqua ecco direi che con buone probabilità ci siamo la dilatazione della carta è stata corretta togliamo l'acqua in eccesso facciamo in modo che sia perfettamente adesivizzata e a questo punto la matrice viene posta sotto pressione fra fogli di carta assorbente per alcuni minuti in modo da adesivizzarsi perfettamente al foglio una volta lasciata per quei 15-20 minuti sotto pressione la matrice viene tolta da questa chiamiamola pressa viene tolto delicatamente facendo attenzione a non sollevare bordi e a non scollare la matrice dal foglio ricevente e portata nella fase di sviluppo che ripeto si svolge con semplice acqua calda la facciamo aderire a questo piano inclinato su cui l'acqua scorrerà con una certa delicatezza e portata la temperatura intorno ai 40-45 gradi io ormai vado a polso per sentire la temperatura si deve fare in modo che il dorso del foglio matrice il supporto si stacchi dallo spessore di gelatina pigmentata lasciandola trasferita sopra al foglio ricevente eccoci iniziamo il distacco tenendo sempre calda la matrice si va a togliere il supporto direi che l'operazione è riuscita questo verrà riutilizzato di nuovo ovviamente allora questo punto ripeto per evitare un eccessivo consumo di acqua tiepida acqua calda la metodologia che adotto è quella di immergerla con la gelatina con la gelatina rivolta verso il basso in acqua appunto a temperatura orientativamente sui 45 gradi una quarantina di gradi e lasciata galleggiare la gelatina sottoposta all'azione di scioglimento dell'acqua tiepida pian piano comincerà a tingerla e l'immagine si spoglierà allora come si può vedere l'acqua ha già preso il colore della matrice che vuol dire che sta spogliando l'immagine dal colore in eccesso che era presente a questo punto andandola a togliere delicatamente senza bruschi movimenti dall'acqua si vede che già l'immagine comincia a delinearsi c'è ancora un'eccessiva presenza ovviamente di colore che deve ancora spogliarsi la lasciamo ancora qualche secondo se ok a questo punto lo spoglio è quasi completato si tratta di farne un finissaggio la torno a mettere sul piano inclinato e procedere delicatamente alla pulizia definitiva dell'immagine segue l'ultimo lavaggio in acqua ovviamente pulita fino a che non si noterà alcun colore sciogliersi ed essere trasportato via dall'acqua allora la fase che abbiamo appena visto è quella della sovrapposizione del magenta per arrivare all'immagine definitiva con i colori reali manca ovviamente la sovrapposizione del blu verde del ciano quello che come abbiamo visto prima assieme al giallo da il verde assieme al magenta da il blu il risultato sostanzialmente finale è quello con tutti i suoi colori reali dal ciano al magenta al giallo al rosso al verde al blu l'rgb o giallo magenta ciano che dir si voglia e il risultato alla fine eccolo di questa bimba che accarezza la panciona della mamma in attesa dell'arrivo del fratellino questa è una prima prova di stampa con alcune imperfezioni sul colore era uno studio con nuovi pigmenti non lo reputo ancora all'altezza di una vera stampa al carbone che ha questa particolarità materica direi proprio di rilievo addirittura nell'immagine è una tecnica di stampa assolutamente unica e originale lo passato la altra è passato l'accomina l'accomina fa quale